Salve a tutti ragazzi, io sono Michael e oggi siamo in questo nuovo video Oggi in questo video siamo con l'evento di fine stagione di Fortnite Capitolo 2, stagione 7, finalmente se ne va a quel paese Come prima cosa, usate il mio codice creatore, mi raccomando, MichaelOfficial Aggiornatelo ogni 15-14 giorni, non mi ricordo Sono in compagnia di un vecchio amico che non ritrovavo da tanto tempo Saluta Ciao E che altro, che altro, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, commentate questo video Se a voi vi è piaciuto l'evento, se siete riusciti a vederlo, se non siete riusciti a vederlo Eccetera, 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 eccetera Comunque rimarremo piuttosto silenziosi durante l'evento Metto la registrazione in pausa e quando mancano all'incirca 30 secondi la faccio ripartire Comunque te lo dico Comunque te lo di, se si per lauenca di vederla, se neva faccio ripartire ci siamo, tenetevi forte ci risentiamo appena sarete a posto a presto non vi hanno armato e ci sono truppe ovunque forse ci hanno scoperto ho trovato la sala dei rapimenti con le bombe una volta passata questa pattuglia ti porterò fuori di lì ok, via non abbiamo molto tempo troverò un modo per aggirare le pattuglie guardatevi le spalle se vi vedono è finita quando arrivi alla porta di sicurezza aspetta ok, sono andati mi serve un attimo forza forza, forza l'ho aperta andiamo se vi vedono attraversate il ponte il più velocemente possibile qualcuno vi ha visto qualcuno vi ha visto muovetevi nemici davanti occhio li ho chiusi dentro ok, devo pensare un attimo c'è un tubo di trasporto più avanti potrebbe funzionare ecco, quel tubo di trasporto vi porterà oltre le pattuglie non è per materia organica spero non sia un problema sembreremmo al sicuro per ora fa attenzione più avanti c'è un altro tubo di trasporto dovrò invertire il flusso d'aria un secondo ok, un attimo devo solamente ok e poi è fatto intrattenetevi vi porteranno alla sala dei rapimenti ah bene bombe in posizione mi terrò pronta dal mio lato voi tenete gli zaini vicini alle bombe ok inizio la sequenza di armamento segnale interrotto segnale interrotto penserò a qualcosa non morite questo è impossibile pensavamo fosse sparito per sempre l'ultima volta quasi distrutto l'isola è è Grazie a tutti. Ok, dobbiamo agire con forza e alla svelta. Devo armare i vostri zaini. Tenetevi forte! Alle finestre! Dobbiamo armare quelle bombe! Ora! La sequenza di armamento è a posto. Ci siamo quasi. E abbiamo finito. Avete fatto la vostra parte? Ora io devo fare la mia. Combattiamo una guerra in cui siamo disperatamente in svantaggio. Non vi riporterò a casa. Non se c'è una possibilità che quella cosa riesca a tornare sull'isola. Passo e chiudo. E Il E Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.